Ciao a tutti, io sono Ginevra e benvenuti in questo nuovo vlog, ma siiii Ok, buongiorno a tutti, è mattina, sono le 10.46 e io sono vestita, sono pronta Perché sono andata a fare colazione al bar Però intanto, mentre aspetta mia mamma e si prepara, vi faccio vedere come mi sono vestita Allora, ho questo maglioncino, ho messo questo maglioncino con l'alberello pompando Poi ho i leggings, questi calzini, vabbè, e gli stivali Adesso vado a fare colazione, perciò a dopo Ok, sono le 2-5 E io sono tornata un po' di tempo fa dal bar Cioè, sono andata al bar e poi sono andata a fare spese e commissioni con mamma E sono tornata all'una circa, e poi mi sono messa un po' a chattare con delle mie amiche E questo, e adesso non lo so, tra poco mangio, però intanto penso che mi faccio un po' di compiti e le vacanze Ok, adesso mangio Sì, sto mangiando sulla mia scrivania in camera mia Perché in cucina ci sono le finestre aperte e poi mia mamma ha pulito e si deve ancora asciugare tutto E quindi mangio qui croquet table e rughetta Sì, io lascio queste cose che non mi piacciono Perciò buon appetito e piatto pulito Ok, ora dato che sono qua e la televisione è alle mie spalle Quindi ho provato questa scopola così a mangiare Vi guarderò qualche video su YouTube E adesso bevo l'aranciata Che è dentro una tazza, sì Ma mi andava, guarda Poco proprio Ok, sono le 6 e 21 E tra poco mi vengono a prendere i miei nonni Perché scendiamo giù e andiamo a fare una passeggiata Ok, sono tornata da poco dalla passeggiata con i miei nonni E mi sono messa già il pigiama E ora stavo un po' giocando col telefono e sul divano Ok, so che ho una capacità immensamente Cioè, ho una capacità assurda Mi dimentico di finire sempre tutti i vlogmas Infatti ora li sto finendo tutti adesso Perciò non vi pressionate se mi vedete sempre vestito uguale Perché in realtà Sono passati tre giorni, penso Da quando e ora sto vedendo che Mi sono dimenticata di finire i vlogmas Perciò lo finisco adesso Spero che vi sia piaciuto Se sì, lasciate un like, iscrivetevi al canale Cliccare la campanella e fatelo esplodere E noi ci vediamo domani Sì, con un prossimo vlogmas Ciao